Ma guarda cosa dicono di te, tu non hai un caratteraggio simile. Ma guarda cosa dicono. Ma cosa fai? Sei impazzito? Fermati! Ho detto fermati! Ma dove mi porti? Maleducato! Fammi scendere subito! Tu sei un pazzo! Fermati! Mi porto! Fermati! Fammi scendere! Fermati! Tieni! Idiota! Stupido! Fermati! Ma fuori! Fammi scendere! Ma di te! Ti odio! Fammi scendere! Fermati! Fermati! Ah! Ah! Bastardo! Disgraziato, buffone, megalomani! Pallone gonfiato! Chi ti credi di essere? E se vuoi andare all'albergo Corona, sappi che è chiuso per restauro da due mesi. Ma allora è vero! È una donna vera! Fuori e profumata! Ma che vuoi?